Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Funghi Natura Valtellina. In questo nuovo video della serie Conoscere gli Animali vi andrò a presentare alcune caratteristiche dello scoiattolo. Animale piccolissimo ma veramente furbo e molto intelligente. Vi vado a presentare appunto lo scoiattolo in modo generale mentre magari in un altro video usciranno le curiosità perché è veramente un animale molto furbo e fateci sapere nei commenti se volete appunto al video riguardante le curiosità che sono veramente tantissime e sono molto particolari. Lo scoiattolo è un mammifero roditore e appartiene alla famiglia degli sciuridi. Spero di averlo letto correttamente. Hanno una lunghezza compresa tra i 20 e i 50 centimetri e pesano, pensate un po', dai 230 ai 280 grammi, quindi quanto piccolo e quanto leggero questo animale. Posseguono un'appariscente lunga coda, piatta e ricoperta da un abbondante e folto perure appunto. Ha due grandi occhi, le zampe anteriori con quattro dita e invece quelle posteriori con cinque dita e sono munite di unghiette accominate appunto che utilizza per arrampicarsi sugli alberi, sulle cortecce degli alberi. Ecco anche spiegato perché va così veloce, si arrampica così veloce sugli alberi. Tra le specie più comuni troviamo lo scoiattolo comune, scoiattolo europeo, caratterizzato da un corpo agile, lungo circa 30 centimetri, con coda lunga che tiene spesso eretta, orecchie grandi munite di un ciuffetto di peli, zampe anteriori dello scoiattolo comune sono più corte di quelle posteriori. Ha una colorazione rossastra, ma si possono trovare anche per esempio esemplari con il dorso nero grigio. Le parti ventrali sono generalmente più chiare, solitamente. Possiede un lieve di morfismo stagionale, quindi in estate sarà possibile trovare nei boschi scoiattoli con colorazioni più rossastre, mentre in inverno il mantella potrebbe assumere una colorazione più scura che tende anche al nerastro, al bruno nerastro di questo bellissimo animale come potrete vedere dalle foto che staranno sicuramente scorrendo sul video. Viva in tutta Europa, predilige ambienti di colline e montagna fino a un'altitudine addirittura di 2000 metri. Preferisce le foreste di conifere, ma è presente anche nei boschi di latifoglie. È un animale agilissimo, arboricolo e scende dagli alberi solo per cercare cibo o per spostarsi magari in una zona o in un'altra zona, dove corre velocissimo e con grande agilità. Lo scoiattolo è diurno, costruisce il nido sugli alberi e spesso utilizza materiale di vecchi nidi di uccelli per nutrirsene oppure anche per appunto costruire il suo nido in quel luogo lì. L'alimentazione dello scoiattolo va a ghiotto di nocciole, ovviamente, ghiande, noci, cortecce, gemme, pinoli, germogli, ma anche gemme e uova di uccelli. Mentre mangia si aiuta con le zampette anteriori che trattengano il cibo. Magari mi mettiamo una foto, vedete come mangia, come si nutre appunto questo bellissimo animale. La riproduzione, lo scoiattolo comunemente si riproduce due o tre volte all'anno, la madre partorisce dopo 40 giorni di diestazione. Solitamente vengono alla luce dai tre ai quattro scoiattolini, ma solitamente possono anche avvenire dei parti fino a sei fratellini, pensate un po'. Può capitare ovviamente. E niente, più o meno penso di avervi detto tutto. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se volete questo video appunto sulle curiosità che sono veramente bellissime, fatecelo sapere, mi raccomando, perché ci teniamo. E se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi al canale, seguiteci su Instagram Fungia Natura Valtellina, fateci sapere appunto quella cosa sulle curiosità che vi ho detto in precedenza e noi ci sentiamo in un prossimo video. Vi auguro buona giornata e ciao a tutti!